L'isola di Santa Cruz è il principale punto di approdo per visitare le Galapagos ed è nella maggiore cittadina dell'isola, Puerto Iora, che è avvenuto il nostro impatto con le isole rese famose da Darwin. Avevo già visto prima di partire la classica foto del leone marino che sonnecchia a sud di una panchina, ma non mi aspettavo l'atmosfera di tranquilla convivenza di tantissime specie con la normale attività cittadina. Qui è normale vedere pescecani e tartarughe nuotare fin sotto i pontili, iguana passeggiare sul lungomare e pellicani e leoni marini in coda al mercato. E' lo squaletto dietro. E' lo squaletto dietro. Guarda lo squaletto dietro. Guarda lo squaletto dietro. Un'incantevole premessa è ciò che ci ha riservato alla visita delle isole. The Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.